Oggi ci troviamo qui presso l'ospedale di Mazzara del Vallo. Diciamo che l'argomento di fondamentale importanza o la tematica la quale per adesso la città di Mazzara del Vallo si sta unendo nell'interesse comunque di cercare di rendere l'unità complessa di radioterapia a Mazzara. Tutto nasce semplicemente per una scelta secondo me scellerata del prossimo piano di rior di un ospedaliero perché noi abbiamo la città di Mazzara del Vallo che è già pronta comunque a ricevere l'unità complessa di radioterapia. Come vedete qui nella foto, già Mazzara è l'acerato lineare montato. Invece Trapani non ha neanche le mura. Sarebbe una scelta logica rendere complessa la nostra unità. Infatti i mazzaresi si stanno unendo qui proprio oggi ma non solo, mai da dieci giorni che sono scesi in campo e ringrazio il comitato pro radioterapia che si stanno impegnando e stanno raccogliendo migliaia e migliaia di firme. Questo significa che la volontà del popolo è quella di rendere complessa la nostra unità di radioterapia. Noi non ci possiamo permettere di avere un ospedale generalista e grazie a questa radioterapia, a questa unità complessa possiamo veramente salvare il nostro ospedale. Ci sono politici che non la pensano così. Chi fa secondo me interessi diversi significa che ha interessi politici diversi e questo mi dispiace. Noi siamo per la nostra città, siamo per il nostro territorio. Guardate, io non sono contro Trapani, non sono contro Marsala, non sono contro Mazzara, ma sono per una certa logica. Trapani oggi non è pronta, non ha neanche le mura quindi non c'è l'acceleratore lineare. Mazzara oggi invece è pronta a ricevere un'unità complessa. Avere un'unità complessa significa avere più posteletto, significa creare anche attorno l'ipotesi di una rete oncologica. Quindi parliamo di malati e tumori. Dico, e cos'è che ce lo proibisce? Ce lo proibisce il potere politico. Naturalmente chi non è d'accordo con questa petizione significa che non vuole rendere complessa la nostra unità, significa che non fa una scelta logica, significa che in Magali vuole rendere più semplice il loro percorso politico e questo mi dispiace. Io metto da parte il percorso politico, ma metto al centro la salute di tutti i cittadini, metto al centro l'ospedale di Mazzara del Vallo. Ho detto che noi siamo di passaggio, ma quello che rimane è il nostro ospedale. Noi, in attesa che a Trapani iniziano il finisco lavori, chiediamo fortemente all'assessore regionale Gucciardi di prendere in considerazione questa petizione, perché questa petizione per noi è di fondamentale importanza, è la volontà del popolo. Quindi invito tutta la cittadinanza di Mazzara del Vallo in questi giorni a sottoscrivere questa petizione. Oggi saremo qui presso l'ospedale a Belaiello, domani saremo di nuovo qui nella zona di Via Salemi, sempre di fronte all'ospedale a Belaiello. Sabre e domenica saremo presenti in Corso Umberto. Naturalmente il mio invito, il mio auspicio è quello di cercare, di compongere quanta più gente. Ci siamo prefissati un numero di 10.000, io non metto limiti perché la città sta rispondendo in massa e sono convinto che lo supereremo alla grande. Una cosa è certa, non mogliamo, vigileremo nell'interesse di far rispettare il nostro nosocomio, perché noi siamo pronti e Trapane no. Quando Trapane sarà pronta eventualmente la sposteremo, ma ad oggi siamo noi pronti a ricevere con l'unità complessa di terapia, perché non possiamo capire mai, non possiamo mai accettare il contrario. Naturalmente se oggi siamo qui è proprio a chi ci ha permesso di realizzare questa bellissima struttura. Noi dobbiamo ringraziare l'ex assessore alla sanità, Massimo Russo, un'autorità morale, civile e un grande magistrato. Ringrazio anche l'operato dell'amministrazione che è stato comunque di controllo insieme al Consiglio Comunale del passato. Questi sono i risultati. Quando la politica mette al centro l'interesse del cittadino, quindi l'interesse in questo caso dell'ospedale, si trova la sintesi e si riesce a dare una grande risposta. Naturalmente non ci facciamo mortificare da nessuno, non ci vogliamo fare umiliare da nessuno, perché per 30 anni comunque ci hanno mortificato con il nostro ospedale che non si poteva chiamare più ospedale. Adesso abbiamo un grande ospedale, ma lo vogliamo rendere grande proprio ripartendo dall'unità complessa di radioterapia. Grazie.